Non c'era il tutto esaurito di aprile quando ad esibirsi sul palco salì un mostro sacro della musica come Ligabue, ma il Palabasento ieri sera ha dimostrato di poter ospitare anche gli spettacoli di intrattenimento. A farla da padrona la comicità e le gag esilaranti di Made in Sud, programma da qualche anno in onda su Rai 2. A compensare le assenze delle subrette Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta, l'ecletticità e le battute sempre pronte dei presentatori Gigi e Ross. Con loro si sono alternati in scena quasi tutti i protagonisti della fortunata trasmissione, che hanno intrattenuto il pubblico potentino, chiamandolo più volte in causa, per circa due ore e mezzo. Risate a crepapelle per le incursioni di Mariano Bruno, i monologhi di Ciro Giustiniani e Alessandro Bolide, i duetti di Enzo e Sal o Ivan e Cristiano. Nessuna pausa tra uno sketch e l'altro, se non per ospitare le performance musicali del DJ Frank Carpentieri, dei Sud 58 e i Valletti delle Suddine. Il tutto in un format basato sull'umorismo e l'autoironia meridionale, che dopo il tour estivo tornerà dal 23 settembre sugli schermi televisivi in prima serata.